Fucile d'assolto marcato, piccolo calibro, qui. Avete un lancio di equipaggiamento in arrivo. Non si può. La strada è stata un'evoluzione. L'arrivata è stato un'evoluzione. È stato un'evoluzione. Conchino a tutti i suoi sensori. Dico che hanno il gruppo dienne, quello che ha realizzato. Erano ghiacchini! Erano ghiacchini! Erano ghiacchini! Erano ghiacchini! Erano ghiacchini! Da giù visto che erano ghiacchini! Ho trovato un elicottero. Ehm... Beh... Erano ghiacchini! vediamo è tutto questo è molto difficile oh la mia si non circolava sono stati oltre un po' di 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 un po' che ci sono i ragazzi, non potete vettere, ma è un'altra vera è il fatto per me, ma non mi ascolto è un giocatore che mi ha fatto ti dà ne sfrega a me la scuola ora ora se è vicino a me posto andate perdendo terreno a che andiamo a zoomare a me qui c'è un bersaglio andiamo a guardare i banchi che andiamo a vedere senza aiutare a me attraver il posto e iiada citi attraverso non vi è la ruota in questo caso a che andiamo a chi in questo caso in questo caso in questo caso tutto questo qui è un luogo che si tratta di un ruolo non c'è un ruolo non ci si tratta di un ruolo non c'è il ruolo ma non siamo capace ci sono le raga non c'è un ruolo non c'è un ruolo non c'è un ruolo è un ruolo non c'è un ruolo Niente la corsa! Vai riuscito a andare.. Mi piacciono a tutti! Mi piacciono a te? Mi piacciono a me... Mi piacciono a te?! Ero? lo fru delivering tu è il buon si è il buon niente non ci sono 22 metri i fatti i fatti lo so a un bando ne va ne va ora rispondono è morto c'è un'errore c'è un'errore no ma che lo hanno fatto? non ci sono le trance e una cosa che è giappone uscire il hanno scelto ecco appare la scelto sono chi si un pozzetto quindi non ci vediamo no è stato un po' di più So, l'ipote è rinatata. Mia una l'impiore non ti era lo Tessica. Come ho, e non hai l'iniquidato. Cosa, sei che siano? Ma sono l'impiore. È così cheisce. Sì! 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 Sau sì! 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 Sì, è stato un minuto Sì, sono andato Ecco, ci sono un po' di più Ma è bai Occhè no, non è sopita è la mia Noi, non è bollare è il potecchio Noi, non si sapevi Non si sapevi Non si sapevi Non si sapevi il nostro Paese è stato un po' di più il nostro Paese è stato un po' di più dove sta verso la lì, no l'ho fatto non è l'ho fatto che mi sia da orevo e mi è stato la maestria che avevo, esserci ma non lo so ma non ci siamo ma si barbano che ci sono ma cosa va e l'ho aci e a tutti i fatti adesso non si inizi qui non si che aspeto Pag. Adorio! S systematic! R집o! Adorio! 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 Benissimo La ciotola è una ticpista e non magari c'è la ciotola Non ce ne è che ciotola Non ci sono Alla ciotola Noi, non ci sono D'acquiettili Non ci sono Non ci sono Non ci sono Non ci sono D'acquiettili non l'hai fatto non l'ho erro non lo trovo non l'ho vede non lo faccio non lo faccio non lo faccio non lo faccio Il giusto che ci sono tutti i i qui, i qui, i goluri, i goluri Si, mi guarda? Sì, si, mi guarda? Agneta, giovani. Ora guarda! Sì, via, guarda. Pagania! Guarda. Guarda! Guarda! sono qui? ci sono i pescatori ci sono gli disperdi ci sono gli disperdi ci sono gli disperdi non sono gli disperdi si è venuto si è venuto ci sono i fatti non è venuto non è venuto che c'è qui? Sami Non lo so, non lo so Non si chiede? Non lo so Non lo so Non lo so Non lo so Ma non so Non lo so Viertelato, passiamo. Non è vero che ci hanno fatto un'altra domanda. Si. Non è vero che si è avuta. Non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. 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 Non è vero. Non è vero. Non è vero, non è vero. Non è vero. Non è vero, non è vero. non è vero. non è vero. non è vero. non è vero, 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 non è vero. 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 let's go battle Ugghh si no sono i vieni sottote non ecco che hai dovuto e io l'ho? lei, non mi piacciono il volto non ti faccio? non mi muro ma non mi muro il mio cuore è un pozzo ma non mi muro ma non mi muro ma non, ma non mi muro ma non mi muro No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti